Dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri hanno identificato e arrestato i responsabili della brutale aggressione ai danni di un uomo avvenuta nel comune di San Gennaro Vesuviano. Nella notte dello scorso 12 gennaio, due individui non meglio identificati avevano aggredito violentamente un 46enne, picchiandolo con rabbia al solo fine di farsi consegnare il suo cellulare. L'uomo, un cittadino di origini bengalesi, aveva riportato diverse lesioni alla testa e alle gambe. L'attività di investigazione portata avanti dai carabinieri oggi ha permesso di consegnare alla giustizia e responsabili della brutale aggressione. Si tratterebbe di un 21enne di San Giuseppe Vesuviano e di un 17enne di Terzigno. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Le indagini effettuate dai militari di Palma Campania hanno raccolto diversi indizi nei confronti dei due. Per il 21enne, il Tribunale di Nola ha disposto il trasferimento agli arresti domiciliari, mentre per il 17enne, il Tribunale per i minorenni di Napoli ha stabilito l'accesso a una comunità per minori. L'area furtiva, acquisita attraverso il brutale pestaggio, infine è stata restituita alla vittima.